Ciao ragazzi, siamo su un nuovo video di Don't Starve Together, abbiamo fratto il fuccarello qui, abbiamo anche la macchina della scienza, siamo appena al terzo giorno, abbiamo già lo accampamento definitivo, attenzione ragazzi, qua siamo messi già molto bene. E intanto faccio cagare un po' gli animali. E quindi qua, siamo agli inizi ancora, possiamo iniziare a fare tutto, potremmo fare. Cosa serve per fare la farm? Bastardo, mi ha mangiato i semi, mi puttano un po'. Allora, vediamo cosa posso fare, io mi faccio il rasoio, no, più tale me lo faccio. Non è che posso fare l'endoteric fire, però boh. Io inizio a farmi la, lo zainetto. Che non si sa mai. Possiamo già fare una best farm? Eh, se puoi farla. Perché non farla? Così iniziamo a fare... Probe. Mi dai due flint? Mi sto bene che mi faccio un piccone anche. Vuoi la roba, scusa? Mmh. Posso dropparne poca per volta? Ma fammi direttamente un piccone e facciamo prima. Vuoi anche la cetta? No, ce l'ho in mano la cetta. Se no. Oh, bastardi, non mi fotterete questi semi. Faccio una cesta tanto che ci siamo, eh. Ok, userò lo zaino per tenere il cibo in modo che, tanto se piove, almeno non mi si bagna. Ho sbagliato, vabbè. Cosa è combinato? Ho fatto la corda. Allora. Ma non... non trovo il backpack io. È in survival, mi pare. Stiamo fondamenti che in contatto ci sono un bel po' di cesfogli con le berries. Che. Forse conviene che non raccolgo, però la lascio lì. Così almeno... Poi, ovvio. Possiamo andare a recuperare dopo. Ehi, si va a picconare! Ti va a cioppare anche. Carota. Giorno 3. Siamo arrivati al giorno 3, mamma mia. Oddio. Vieni qua, vieni qua, vieni qua veloce. Spacey, veloce, veloce. Fermala, fermala! Fermala! Grande. Che è? Allora, benvenuto Spacey in una nuova zona. Questa forse non la conosce neanche tu. Nella... Nel deserto. Il deserto ha dei pro e dei contro. I pro sono che ci sono queste palle di filo che possono contenere qualsiasi oggetto del gioco. Anche i più rari. Il negativo è che ci sono i cani che girano. Siamo finiti. E non sei che utile cercare di più cedere i conigli, non li puoi uccidere. No. Una volta ci sei riuscito. Il compresso... E' pieno di rocce da cioppare. Sì, da cioppare. E la rocce si cioppa. Ricordati, la rocce si cioppa per me. Ahia! Eh, non cioppare gli alberi, sono spinati. No, cioppato il cactus. E anche quello ti fa male. Pensavo che gli dessino accettato con l'accetta, non che il pesce cretino ci ha andato a mani nude. E invece? Il pesce è un cretino. Ricordati che ci serve i fiori per fare cagare gli animali, eh. Oh, altre palle di fieno. Quando vedi quelle palle, c'è che di bloccarle e aprirle a tutti i costi. Non la trovo, non la vedo io. E' arrivata a me una da oscolo. Ho trovato un po' di cibo. C'è un po' di cibo. C'è un po' dello zaino. Cos'è sto cosa? Perché ci sono del cibo di mosto qua in zona? Cosa cosa buona o cosa cattiva? Merda, 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 merda! Sì, ci sono i cani! Mi sei finito tu? Mi sei fatto a scappare. Sì, sì, ho anche aperto un coso. Ho fatto un bel po' di roba. Fammi tornare a controllare che lì c'era della roba vicino i cani. Roba interessante. Ma sono facilmente ucciditi i cani? I cani in due sì. Da soli è un po' più complicato. Ricordati che sta diventando notte. Sì, sì. Chi è? Hollow Stump. Cosa stai parlando? Hollow Stump. Ho trovato un Hollow Stump. Un furetto, una lontra. Che cazzo è? Oh, ci credi che continuano a non avere flinti io? Ho cioppato un sacco di... Devi venire qua. Eh, dove sei? Sopra la nostra casa. Sto venendo notte. Eh, lo so, ma ho trovato un gatto strano con una maschera, un furetto. Che cazzo è? Un procione? Un procione, bravo. Eh. Le puoi uccidere da solo. A massimo ti danno un hit. Sono debolissimi. Ho trovato la coda? Anch'io c'era una delle loro. L'ho ucciso prima uno. Quello che non troverò qua, ho dovuto mangiare un cactus crudo. Potevo morire. Sì, però che Palli continua ad essere senza flint. Eh? Continua ad essere senza flint. Ah, tieni, ho un regalo per te. Non ho spazio. L'ho trovata, eh. Tanto la metti addosso. Butta qualcosa un attimo per terra, giusto per tanto te la metti addosso. L'ho trovata... Prima, in giro. Posso mettere lo zaino, ora. Eh, lo so. È giusto per darlo. L'ho trovata, quindi... Questa tanto non è niente addosso. Cosa crepiti, bello? Una cesta. Yeah, viva le ceste. Metto dentro un po' di legno. Un po' di... Di cibo. Aspetta, ma questi li posso piantare? Non so cosa sono, però li piantare. Ehm, chi ha fiori? Chi ha fiori? Vedo un cazzo. Muoviti... Addio. Porca troia. Accendi il fuoco, magari. È qua il fuoco. Dov'è? È qua, dove sono io? Il bello che ho fatto... Ho fatto la cesta... Ho fatto la torcia, ma non me l'acceda. E devi mettertela in mano, magari. Non la trovo, quello è il problema. Bene, mi hai fatto morire, Gigi. Umbra? Che cazzo è Umbra? Lasciali lì per terra. Ehm, come si faceva partire l'animale? Non serve, c'è qua il tombstone. Per una volta posso rinascere da qua. Ma non potrò farlo un'altra volta. Ma scusate, tu non avevi legno o qualcosa del genere? Ehm? Non avevi niente da poter mettere? Eh no, ti ripeto, non mi hai dato niente. Ti continuo a dire, mi dai le flint? Ma no, ma per mettere sul fuoco. No, niente, era vuoto. Zero. E tu che avevi i fiori. Ma non è che possiamo... I fiori non fanno un cazzo, qualcosa. Meglio che niente. Un sacco di danni. Eh, tu ho finito tutto il mio cibo. Ah, eccolo. Non l'ho toccato il prefetto. Io l'ho toccato. Perché sto morendo di fame. Anch'io. Devo mangiare. Sono a metà vita e un quarto di sanità mentale è andato a me. Anche a me. E metà... Vieni qua comunque, ti faccio vedere quello che ho trovato. Sì, ma... Oh. Iscritti. L'avete sentito anche voi la quantità di volte che io dico? Poi ditemi nei commenti quante volte gliel'ho ripetuto. Mi dai le flint! Va bene, scusa. Ehi, diciotto volte! Sono in giro con niente. In questo cazzo di ascia e basta. Ma la trovi la finta, mi giro te. Mi hai preso pure tutti i log. Adesso sono senza neanche lei. Io tutti i miei venti pezzi ho... Non l'ho presi io, no. Eh, non li ho. E poi un po' tu che cazzo li ha. Gli alber... Gli alber... Gli alber... Gli alber... Gli alber... Gli alber... Ah, non so, gli alber... Eh, poi hai capito. Oh, là. Hai lasciato cadere una coda in terra. Dove è finito il mio codex ombra, piuttosto? Dove io. Eh, mi serve il mio personaggio. Aspetta, petta, petta. Hai due cacche. Ecco, no, li stai facendo cagare tu. No, thank you. Ok, torno laggiù, dove ero primo verso i cani a raccogliere roba. Comunque, d'ora in poi, per evitare altri fail che non posso più tornare in vita, decidiamoci prima chi deve mettere il fuoco. Accendere il fuoco. Ti è andato per scontato come sempre che lo accendevi tu. Io invece devo per scontato che l'avresti acceso a te, perché io ero a fare altro e quindi pensavo... Quindi siamo spottuti a vicenda. Beh, mi piace, mi piace fare video e essere completamente zitti, eh. È funzionale. Il problema è che comincio ad avere pochissima vita, o meno di metà vita. Vai a caccia di farfalle. Ora ci sto andando, ma sto prendendo anche della legna, visto che io non ho niente per metterlo nel fuoco. Eh, cosa del cazzo, stai fermo. Trovato? Questo? Delle piume? Foliage? Cos'è il foliage? Buh! Trovo oggetti strani da mangiare. Ministero dell'Apide. Ho sentito qualcosa a gridare come se fosse segno. C'è un cane qua sotto. Sto arrivando. Queste sono le rocce che stavo picconando. Teniamo a fare il picconatore folle. Qui c'è un... un scheletro. Lo so. Trovato un piccone. Sto prendendo la roccia. Quante rocce che sono qua di intorno. Ho visto un cane in lontano. In due le ammazziamo, ma in solitaria no. Hai una buona probabilità di lasciarci le penne. Se lo togli davanti, non mi faccia. Che pace. L'unico battaglio è che ci sono qua in giro delle caprette. C'è i cani però non c'è delle caprette, ma le caprette sono più forze dei cani. E le ammazzano. Da poco mi sa che dobbiamo tornare verso l'accampamento. Ecco le caprette. E sto ammazzando le talpe. Però che so come si ammazzano le talpe e l'ho ucciso. Capre! Aiutatemi! No, le capre scappano. Inutili. Le talpe le huancionate. Sì, le talpe si huancionate, no. Combiene di venire verso casa, no? Decisamente sì. Senza dubbio. Bene ragazzi, tra poco siamo ormai verso la fine di quest'altro episodio. No, ma fallo durare fino al giorno 6. Quanto cazzo lo fallo durare? Quattro giorni? Quattro che ho iniziato io il primo, fino al giorno 3. Ma se ho registrato io finora. Hai detto, al episodio 2 abbiamo detto che registravo io. Hai detto. Sì, ma questo è l'episodio 2. Ma noi siamo stoppati l'episodio al giorno 3, prima. Giorno 2 abbiamo stoppato. 3. Abbiamo fatto anche il giorno 1. Ok, stanno andando in confusione. Hai fatto il giorno 1 e allora sei registrato fino al giorno 3. Ah, ok. Ok, ho digito un mi fio. Oh, poi al massimo lo taglino parte, vaffanculo. Buon amico. Buon amico. Sì, infatti. Hai chiesto il primo 1. Uaio. Ok, facciamoci finalmente la Spear dopo secoli. Andare in giro armato. Sopriamo a fare anche questo. Ma lo scheletro... Come si fa a toglierlo? Non so se puoi. Sopriamo a fare anche una torcia. Ok, dovremmo trovare dell'oro per fare i electrical... I diodi. Questa l'abbiamo. Sì, possiamo già fare i diodi? Per fare... Ma per fare quello? Adesso lo vedi. Mi serve un altro di questi, però. Per fare un altro diodi. E mi servono... Quattro boards. Quattro? Boards. Boards. E le tavole di pietra. Le tavole di legno. Quindi si va a cioppare... Anzi, prima di cioppare... Mi serve una cacca, due legni e sette... No, io non ho manco la finta. Non posso per un cacca. Buono. Un problema... Un problema comune con me? Che ho avuto anch'io. Volevo fare il rasoio. Un problema comune con me. Se lo metto per terra e sacrifico la mia sanità mentale e le ombre, posso evocare dei mostri. Cosa puoi fare? Posso evocare delle cose che rimangono sotto il mio controllo. Facendo cosa? Sacrificando sanità mentale e ombre. Le ombre come le ottieni? Non lo so, ne ho sette di base. Cioè, le mostri di base più una l'ho ottenuta prima, non so come. Qua c'è un cadavere per terra. Oh, l'arma del suicida. Ovvero? O meglio dire l'arma che chi lagga non può usare. Ovvero? Il boomerang. Fa un male assurdo ma devi ricliccare mentre si tratta sul boomerang, sennò ti arrivi in faccia e fa un male della madonna. Però al 20%, quindi... Può essere soltanto lanciato. Poi si rompe. Così poco? Mh. Ogni lancio... Ti abbia fatto un boomerang così due volte? No, cinque volte perché consuma il 20% ad ogni lancio. Ok, mi serve ancora un... Ok. Possiamo venire a creare un nuovo oggetto per il nostro accampamento. O vero? Questo vedi appena arriva. La... La... Cosa dell'alchimia. È vero? A che serve quello? Per fare tantissime altre ricette che sono bloccate con la macchina della scienza. Inizia ad esserci il gatto comunque. Buono. Ah, quando vedi quei... Gatti, procioni, compriamo e li ammazzali sempre. Tanto si può andare all'infinito. Abba!!! O vero... Comincio l'amma... Stay away. Non avete a porci contro di me. Non c'ero mica con voi. Comunque sia, torniamo qua. Andiamo avanti con la costruzione. devo mangiare questo ma perchè da arre maiale ci sono quelle ombre? da arre maiale ci sono delle ombre quando non ho visto niente hai un fiore da dare a un maiale per una merda si ho un po' di petali ma prima accendiamo il fuoco mi dai una... no vabbè ormai non si può ma dicono che ne metti un legno normale se no questi quanto ti ci vogliono sputtane ogni cosa eh boh infatti ho sputtato tutte quante le rose tutti quanti fiori ci metti un legno e ti dà tutta la notte build build mi dai due rameascelli oppure un rasoio ma che ti capisco il rasoio? vai che è troppo affinato fatto vai da me ok posso fare la macchina dell'alchimia ce l'ho a piastico qua vediamo col codex ombra cosa posso fare esattamente di crafting ma posso craftare un altro codice ombra però cazzo se deve fare un altro codice ombra ce ne abbiamo già uno posso fare il shadow vlogger sacrificando due anime scure e lascia eventi di sanità mentale posso evocare un tagliatore di legno un picconatore uno scavatore un guerriero non ascoltavo posso evocare picconatore scavatore accettatore e guerriero niente di così paraparapunti dovremmo creare qualche altra cesta e inizia da togliere i birch cosi lì io ho che serviva per togliere da terra le radici oh è uscita una melanzana che cazzo che serve per togliere i cosi da la pala la pala hai due ramoscelli per farla io la tolgo io dai così almeno facciamo anche una aumenta io il fuel la tolgo qua ok che ci sono queste luci? sono libellule si libellule l'uccele spuda possiamo minare la statua? prova ok ragazzi comunque è finito il piccolo interrompiamo qui questo episodio e noi ci vediamo nel prossimo episodio qui da Scienzi è tutto bye bye california california